Ciao ragazzi bentornati, parte numero 58 in cui oggi come da titolo andiamo a reclutare tutti quei giocatori speciali, particolari che possono essere presi solo con delle condizioni e mi riferisco a tutti i giocatori dell'ex Raymond ai vari Celia, Nelly, Canon, Sion, ovviamente io ho Buffera di Neve quindi vi dirò eventualmente pure quelli per Tempesta di Fuoco perché qualcuno in questo caso varia, una delle piccole differenze sta qui tra i due giochi dunque il primo che andrò a prendere, che vi dirò comunque ognuno come si prende, sarà Kevin Kevin chiederà di vincere contro una squadra che si chiama la Raymond Subs A che la trovate a Okinawa nel ramo di sopra quindi nel momento in cui voi battete con la squadra, non importa che grado, basta che la vincete, quindi pure grado B allora potete andare a prendere Kevin, che non c'è manco bisogno di reclutarlo da Hillman, basta andare in questo caso direi al fiume e ci dovrebbe essere che aspetta, quindi andiamo a vedere insieme, io non lo so, lo scoprirò insieme a voi dunque la Raymond Subs A dovrebbe essere la penultima squadra di Okinawa del ramo alto comunque si chiama esattamente in questo modo, ora non so se effettivamente la situazione è giusta o meno ma voi dovete battere la penultima squadra, ora posso andare pure a controllare mentre tanto mi dirigo a Tokyo al fiume, ma direi che è così non importa il nome, basta che sia la penultima, esattamente, penultima squadra del ramo alto e dunque per reclutare Kevin bisognerà andare dunque al fiume e andare nella seconda zona in realtà quindi bypassare la prima e non ho ben capito dove dovrebbe essere precisamente, ma potrebbe essere questo puntino qui, esatto ok, come vedete, compara automaticamente, non so se ho avuto fortuna o meno per cui dovete avere quel requisito prima fatto senza dover parare con il man, eccolo qua, doveri ti ho aspettato vaffanculo Kevin mi hai aspettato, sì eh, vabbè, comunque a livello 32 e tra l'altro notiamo, l'ho visto in un breve momento che la sua mossa è rimasta evoluzione 2 quindi si conferma il fatto che i giocatori come Kevin, che hanno subito un infortunio durante la trama e sono andati via per motivi di trama, appunto comunque rimangono allenati del... con la mossa presente e secondo me anche del livello che avevo al tempo e sempre secondo me dovrei avere nei record di gioco i gol di Kevin, esatto, sono tornati 42 gol di Kevin che più o meno erano quelli, infatti, che mi aspettavo di trovare ora, il prossimo giocatore sarà Timmy anche Timmy chiederà di battere quella squadra la Raymond Subs A, la penultima nel ramo alto di Okinawa grado qualunque non bisognerà parlare con Simon Hillman ma bisognerà andare alla Cloister questo Timmy già, lo sapevo già da una vita che sarebbe andato lì perché ho dei bei ricordi, insomma del suo reclutamento è molto semplice, un po' come Kevin allora, dunque, dirigiamoci a Kyoto e poi direttamente nella sua scuola anche qua, ripeto, non bisognerà fare altro che parlarci e sarà esattamente nel luogo dove si prendeva al tempo Scott visto che sono qui in formazione offensiva vedete che per un attimo non c'era un puntino che ora è comparso eccolo qua che è un po' in realtà snatura a vederlo lì ma lo prendiamo perché fa parte della vecchia della vecchia Raymond, ovviamente Timmy in questo caso a livello 45 non è neanche così scarso insomma, si porta a essere a un buon livello non so se, prendendolo prima sarebbe stato un livello più più basso in ogni caso è così Todd, identico sia a Timmy che a Kevin dovete battere con la squadra Raymond, Sabsa e poi, senza parlare con Simu Rilman andare a Osaka ecco, già questo non ho ben presente dove esso sia però direi sicuramente al parco giochi ora guarderò lo screen visto che il mio amato sito Watashi Was7 ci viene in aiuto sì, vicino alle giostre in realtà quindi nella chiamiamola terza zona a cui possiamo accedere contando pure l'ingresso del parco Naniva quindi di fatto proprio al parco in sé e dovrebbe essere sotto capannone ecco, per un attimo non c'era è spuntato importante è battere la Dark Emperor perché se voi per qualche motivo tornaste ora la Raymond dovete ribattere gli incappucciati e la Dark Emperor forse anche per la settima volta ma riparte il loop della storia automaticamente non compaiono non so se ho avuto sfortuna io ma l'ho potuto sperimentare in questo modo quindi direi che dovete fare in modo che l'obiettivo finale sia preparati per la battaglia finale ovvero quello che vedete nello schermo superiore anche se io ce l'ho in inglese non capisco il motivo veramente non ne ho idea ma il salvataggio ormai si è si è buggato non ho ancora idea se è tornato o meno la Chaos io ho provato a fare il segreto ma lo scoprirete con l'eventuale parte 61 dunque ora al prossimo oltretodo sarebbe Eric e Bobby perché come da sito se voi non prendeste al tempo durante l'inizio Eric e Bobby potete anche evitare perché basta prendere tre giocatori anche nella mappa contatti no? in questo caso Eric basterà andare da Hillman mettere il suo nome e Bobby anche e poi lo troverete a Tokyo mentre Eric alla stazione ma penso che tutti abbiano preso i giocatori appena citati ora per prendere Nathan stessa cosa solo che bisognerà vincere tutte le partite del ramo alto della Mary Times a grado S perché lo scrigno del grado S del ramo superiore di Okinawa dà proprio la possibilità di reclutare Nathan quindi in questo caso bisognerà però parlare con con Hillman e inserire il suo nome direi proprio nell'ingaggio qua nella categoria per nome e scrivere Nathan dovrebbe uscire mi auguro altrimenti è un fail ma non saprei altrimenti come trovarlo dovrebbe essere così ecco ovviamente i fail arrivano comunque ma più piccoli speriamo arrivi eccolo qui anche perché Nathan è coinvolto anche poi in eventuali altri reclutamenti avendo Nathan puoi averne anche altri che poi vedremo penso proprio in questo video dunque vicino a una barca al fiume e effettivamente bisognerà andare anzi tornare al fiume nello stesso luogo per chi ha seguito tutto il gameplay in cui bisognava bisognava prendere Ryan Terry ovvero quel giocatore che bloccava momentaneamente la mappa contatti perché si ricorda bene io poi non lo riuscivo a trovare ma l'ha trovato il mio amico e l'ho sbloccato infatti è nello stesso luogo che si trova esattamente lì eccolo qui mi chiedo se per qualche motivo io do ah no ma non può accadere stavo per dire se dovesse reclutare insieme al suo momento è impossibile perché anche Ryan Terry chiede il reclutamento tramite nome da Hillman e anche Nathan è preso a livello 36 poi abbiamo Steve Steve chiede come Nathan un'intera fila di squadre battute a livello S ma il ramo inferiore sempre di Okinawa e anche qua bisognerà avido chiamare Hillman e ingaggiare Steve Grimm tramite nome quindi autobus e basterà scrivere direi Steve non so se scrivendo Grimm funzioni uguale non è una cosa importante alla fine dunque per nome e scrivo Steve giocatore che più anonimo non esiste io quando penso a Steve penso a come si chiama il personaggio di Minecraft insomma all'omino di Minecraft forse proprio Steve si chiama eccolo qua ce ne sono diversi in realtà all'infuori di lui è proprio l'anonimità fatta persona non mi ha mai detto niente e anche lui si trova nello stesso luogo nello stesso identico luogo dove siamo appena andati identico d'altronde è così se volete Steve io lo prendo per completezza per completismo non sarebbe necessario secondo me cioè nella mia idea però essendo che ho deciso che rilascerò il salvataggio perlomeno lo voglio lasciare con tutti i giocatori potenzialmente reclutabili tranne quegli amapa contatti su inazumeleven 2 ecco a livello 40 non capisco la distinzione fra livelli dei vari giocatori ma non è troppo importante dopo Steve tocca a Jim Jim chiederà mentre vado comunque all'autobus di fare tutte le amichevoli del ramo basso dell'alpine a grado S perché anche lì sarà come oggetto finale dello scrigno proprio il suo reclutamento quindi basterà scrivere Jim all'interno del della macchina qua dei reclutamenti e dovremo trovare il nostro Jim Wright sono diversi non siamo neanche a metà penso guardando qua il sito sono in effetti tantini comunque ci sta ne troviamo anche qua diversi ecco lo qua a livello 40 anche lui e si troverà al G Mart alla Tokyo Station insomma la stazione quindi dentro un negozio almeno cambiamo un po' luogo speriamo che non ci puoi tornare al fiume perché diventava un po' noioso il tutto dunque andiamo alla stazione ora non ho ben presente quale sia effettivamente il negozio corretto al massimo lo vediamo più volte secondo me è questo ma potrebbe essere pure quello lì in alto ecco appunto non è questo qui dovrebbe essere mercatone G in realtà a questo punto allora è questo per forza anche se non me lo aspettavo ma vabbè e il puntino eccolo lì già presente Jim Wright che ci aspettava anche Jim mi viene con me questi giocatori sono utili secondo me per fare numero quando avete bisogno di andare al penare Nakata che richiede 80 giocatori 77 ora io non ho già più della soia perché ho fatto anche un po' di mappacontatti quindi è normale che sia così ora tocca a Sam Sam stesso procedimento bisogna andare all'autobus digitare il suo nome ma solamente dopo aver battuto tutte le amichevoli a grado S del ramo alto dalla lama di Suzette ok purtroppo questi giocatori si fanno davvero desiderare ed è per questo che io ho dovuto anche molto controvoia fare le amichevoli durante il gameplay o anche durante i miei passatempi ecco ho speso tempo io anche all'infuori dei video per avere questi giocatori alla fine lo ritengo però un obiettivo secondo me da portare a termine e Sam si troverà non è possibile di nuovo al fiume nello stesso di antico luogo potevano secondo me suggerisela un pochino meglio mi direte chi se ne frega meglio così è facile sempre meglio che andare al monte Fuji cosa che tanto dovrò rifare perché i giocatori del diamond dust andranno presi per forza lì poi vedremo nella prossima parte direi allora Sam sta qui sotto inutile ormai dire dove ecco Sam Kincaid che io mi piacerebbe un sacco averlo nella sua forma dark con i capelli molto più lunghi per me è un gran figo così invece è un grande sfigato vabbè giusto così Sam da un po' quell'idea e poi tocca a Max Max anche qua dovremo fare questo procedimento solo che secondo me è il più complesso perché dovrete battere tutte le amichevoli a grado S nel magazzino segreto che abbiamo fatto la scorsa parte vi ricordate nel ramo sotto quindi non solo dovete fare il segreto per avere Max che alla fine non è manco un giocatore di vista quale entità ma dovrete battere tutte le amichevoli sotto che non sono facili avete visto noi abbiamo una squadra abbastanza allenata poco sopra secondo me la media per riuscire a vincere 5 a 0 ecco non abbiamo il livello 100 non siamo le statistiche allenate eccetera però c'è la nuova Zeus che secondo me a livello 90 non è facile da battere per avere Max dovete battere anche la nuova Zeus a grado S tra l'altro non basta batterla normalmente ora non c'è lo screenshot di Max ma provo a tradurre troverai lui all'area della torre a Tokyo vicino al fiume o al lago direi non c'è un fiume quindi dovrebbe essere lì anche lui è livello 40 alla fine è un giocatore anche piuttosto scarso ma come tutti gli altri forse Kevin ognuno che si salva e Nathan però è bello secondo me anche crearsi la propria scuola della Raymond e comunque andagli a prendere torre e dovrebbe essere dunque lì in alto si vedo un puntino di troppo dovrebbero essere se ce ne tre nella normalità invece ce ne sono quattro e sarà uno Max per fortuna non chiedono manco requisiti particolari anche perché non avrebbe senso sono giocatori che noi conosciamo già bene dopo Max che abbiamo terminato il reclutamento dei vari giocatori della X Raymond continuiamo andiamo a prendere la Celia che si può reclutare sia in bufera che in tempesta anche qui per reclutarla andiamo in alto da Simu Rilman perché bisogna dirglielo e chiederglielo dovete vincere tutte le partite della natura dell'Alpine a grado S del ramo superiore per fortuna le ho fatte tutte guardate non sapete che sollievo averle fatte e scriviamo Celia al suo interno come nome e dovrebbe comparire non so bene dove però forse oddio di nuovo al fiume non è possibile vediamo guardo lo screenshot no si sempre al fiume però nel luogo dove più o meno stava Kevin non so perché però vabbè l'importante è prendere la giocatrice che in realtà non mi interessa proprio niente però nella squadra della Raymond ci sta bene anche lei secondo me dunque torniamo al fiume un po' noioso può essere questa parte però spero di darvi i giusti consigli sono giocatori che io non avrei preso non mi servono per la squadra posto che comunque la squadra io non andrò a farla non è mio interesse cioè mi va bene quella che possiedo attualmente con pro e contro che ha ecco forse l'ho già messo torra all'interno della squadra mi interessava dare questo segnale a tutti voi no tolgo Jude perché tanto Jude è ora in realtà in panchina ho tenuto Eric perché la mossa difensiva è messo Stoutberg giusto per darvi l'idea ecco che mi interessava avere lui ecco qua Celia che parla tanto per fortuna poi non ci chiede la sfida meno male ora dopo di Celia che tra l'altro stiamo terminando anche le pagine di reclutamento dovrebbero bastarmi però insomma siamo al limite quasi per quello che la mappa contatti in realtà ogni volta cioè se voi volete volesse terminarla i giocatori o tenete solamente quelli che vi servono oppure li dovete eliminare praticamente tutti poi tenete solamente qualcuno certo io ne ho anche tanti reclutati un po' inutili però bisogna stare attenti purtroppo è limitato lo spazio a 14 pagine ora o Silvia o Nelly parliamo di Silvia perché è quella che posso reclutare e poi vi parlo di Nelly allora Silvia può essere reclutata dopo aver vinto la partita Raymond-Subs-A ovvero la stessa di Kevin vi ricordate la penultima del ramo superiore del nato di Okinawa e poi dovremmo andare a alla casa di Mark però non sembrerebbe che ci sia bisogno di parare con Ilman quindi da un lato meglio io sono Tim Nelly perché se lo stesse chiedendo adoro amo Nelly è la ragazza più bella del gioco perlomeno tolte ai cerebellatrix che però non fanno parte del comparto primario dei personaggi sono molto terziari sono solamente gli alieni tra l'altro la fine che compaiono io dico il personaggio femminile più bello più intrigante per me sia bambina che adulta è Nelly c'è invece chi è Tim Silvia o Tim Celia io l'ho sempre pensato di essere dalla parte di Nelly per chiamiamo sfortuna però noi possiamo prendere Silvia che dovrebbe essere qua dentro la stanza eccola non so cosa ci facesse in camera mia non è che voresse fare qualcosa tanto ce la portiamo con noi mentre vi dico già che per Nelly è la stessa cosa nel senso che dovrete vincere quella sfida Okinawa la penultima nel ramo alto a grado S no non importa grado anche B e poi andare alla torre salirla quindi fare le scalete della torre e troverete l'Inelli ok ora prossimo giocatore anche qui esclusivo ovvero Sion Sion Blaze io anche qua avrei preferito Canon ma vabbè solamente in bufari di neve si può ottenere Sion per reclutarlo bisognerà vincere tutte le amichevoli del ramo superiore dalla Mary Times con un normal rank dice quindi non c'è bisogno di avere grado S e poi videochiamiamo Ilman e scriviamo il nome Sion così che da poterlo ottenere non mi interesserà avere Canon anche perché dovrei chiedere a qualcuno che mi li scambi non è importante ecco scritto Sion vediamo se esce fuori lo stesso se dovessi sbagliare cambia qualcosa secondo me no infatti cambia invece perché non trova nessuno e mi fa perdere tempo quindi dovete scrivere per forza il nome corretto ora nella speranza che esca perché Sion di Blizzard ecco qua ora ha concluso bene questo è carino credo che in Azulman Event 2 non so cosa c'entri perché diciamo che Sion appare nel 3 insieme a Canon vabbè un po' come Nakata giocatori che sono talmente particolari che spuntano anche prima del loro gioco di ufficiale apparizione che poi in realtà Sion e Canon appaiono nel film anzi Canon sicuro Sion non lo so penso di sì però e bisognerà andare ad Hokkaido quindi cambiamo un attimino luogo per fortuna cambiamo aria letteralmente andiamo nella zona più alta del Giappone perlomeno dell'isola ed è quel puntino che già vedo qua nel marciapiede eccolo qui che darà una sfida per fortuna no ma probabilmente nessuno di essi di questo video che darà una sfida all'infuori ovviamente di Nakata che c'è un argomento a parte letteralmente anche una parte a parte giusto per farvi capire che non è la prossima ma quella dopo per cui ormai ci siamo quasi bene se voleste invece Canon perché avete Tempesta di Fuoco dovete vincere tutto il ramo superiore della Mary Times a Norman Rank e poi videochiamarlo e andare nello stesso luogo vediamo sì identico nello stesso punto in cui si trovava Sion in Tempesta di Fuoco si trova Canon bene adesso ne ha appena un giocatore molto particolare anche qui ovvero Chester Horse Junior che è il telecronista no che per ottenerlo bisognerà andare alla stazione tv anche qua non serve necessariamente parlare con nessuno voi potete avere Chester Horse in qualsiasi momento basterà avere fortuna di trovarlo perché non sempre compare è un giocatore come Aurelia che io già possiedo da da tantissime parti del gioco vi dirò poi dove si trova anche lei e se c'è ecco dovrebbe essere lì nel lato più basso ma non è presente quindi purtroppo bisognerà perdere anche un po' di tempo bisognerà entrare e uscire fonti dicono che ci vuole un paio di volte al massimo però ecco questa fonte ovviamente non rispecchia la mia fortuna perché io chissà quante volte impiegherò e poi è anche noioso perché devo arrivare fino in fondo per vedere se c'è o meno ora controllo eh lo screenshot ma ricordo che che sia qua non posso sbagliarmi eh sì solo che non esce oddio mio e vabbè questo è il bello della diretta ho avuto fortuna con altri giocatori io non ho davvero idea come sarà prendere Nakata perché se ho la sfortuna che io confermo di avere ad ogni episodio immaginatevi per avere Nakata che c'è chi dice anche che ci ha impiegato 20 minuti di fare avanti e indietro circa 70 volte su e giù però lui è ostico dà fastidio cesser orse perché per vederlo devi anche affacciarti verso la parte bassa del campo devi perdere questo tempo perché non spunti ora non ho capito o l'ho già preso no ma non penso mi sta facendo venire il dubbio ma non l'ho mai visto i cesser orse nei miei tribunari ora però devo controllare direi però di no se c'è l'avrei preso qua vicino a Janus perché insomma non sono mai più tornato alla fine di Nara quindi no aspettiamo purtroppo non è che possiamo schioccare le dita e far sì che compaia tra l'altro è un giocatore che sicuramente sarà anche scarso non ha nessun tipo di particolarità se non quello di essere cesser orse il nostro telecronista tra l'altro io non l'avevo neanche visto sicuramente durante il gameplay perché altrimenti l'avrei preso ci avrei parlato perlomeno quindi anche la sfortuna di non averlo visto neppure quelle volte durante il gameplay e qui siamo già però a 10-11 volte non vorrei perdere tutta la mattinata io qui o tutto il video però per fortuna Urile già l'abbiamo presa che sarebbe la prossima secondo la guida da prendere no vabbè ma è incredibile ma chi sei perché non compare perché diamine non compare allora dovevo fare un count dovrebbe essere qua non è che invisibile no qui dovrebbe essere però purtroppo sto prendendo più tempo del solito perché non basta fare avanti indietro per una zona esce e rientra facilmente ma devo prendere l'ascensore ogni volta in su in giù e poi non compare e questo può essere il punto di non ritorno di questo video è sfiga questa eh molta sfiga cioè ora guardo magari se dice qualcosa al sito non dice niente dice si può reclutare lì in the in the second scene second screen insomma della stazione tv quindi per forza qua c'è anche lo screen insomma boh ora non penso che debba avere dei requisiti particolari oh mamma mia eccolo qui incredibilmente vieni non mi chiedere neanche una sfida si 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 entra entra madonna mia ora dopo Chester Horse che è a livello 3 mamma mia vabbè rimarrà tale nel senso verrà allenato in base alle poche altre amichevoli che dovrò fare spero la Chaos per esempio ci sarebbe Aurelia Aurelia io l'ho già presa ve la faccio vedere anche dalle mie amicizie l'ha presa in maniera in realtà del tutto casuale eccola durante il gameplay vi ricordate a Hokkaido dovete andare alla crinine nevata anche qua non si aveva nessun tipo di requisito la trovate bassa se avete fortuna in quel sentiero che porta tra la crinine nevata e il campo dell'Alpine che sono tre zone mi pare lunghe verticali sulla destra in uno dei sentieri trovate Aurelia anche qua se c'è la fortuna di trovarla perché secondo me io ho avuto molta fortuna nell'averla subito è un po' come Cessero questa giocatrice tra l'altro ha ben quattro mosse extra una giocatrice secondo me utile per la panchina perché tenerla in campo è inutile però fa apprendimento forse ragazzi che sono mosse veramente interessanti per l'allenamento dopo Aurelia bisognerà prendere un altro giocatore particolare ovvero Sagaminator detto Segi e bisognerà andare alla Mary Times bisognerà parlarci in realtà due volte vediamo se ho questa fortuna però devo un po' capirlo bisogna andare tanto a Okinawa alla Mary Times quindi già nella zona dove c'è il campo però non so perché il sito mi dà due luoghi da dove guardare intanto provo a leggere meglio allora se parli con lui nella parte vicino al Mary Times pitch ma non capisco perché ci sono ah no ok ci sono due zone in realtà sono due screen ma in realtà sono lo stesso dovrebbe essere qua ovviamente non c'è e anche qui è noioso farlo perché devo prendere l'autobus non posso fare su e giù per la zona ma devo fare su e giù per l'autobus in modo che compaia al puntino se compare perché pure qua due palle ecco vedete io qua ho appena sbagliato non so se funziona anche così non mi fido però io vado di autobus eh che palle Seg in realtà non so che particolarità abbia cioè io lo ricordo bene è quel biondino con gli occhi con gli occhi da sole però boh non so perché mi è definito particolare forse perché lo fu Inazuma Eleven 1 ora Chester Horse capiamoci è il cronista Aurelia è una ragazza che ci accompagna durante l'avventura Seggy non lo so che ruolo abbia all'interno del gioco ora se tanto mi da tanto io ho persi dieci minuti per Chester Horse ne perderò altri tanti per Seggy speriamo di no tanto non l'ho mai visto cioè io qua ci sono passato un sacco di volte e non è che non ci abbia mai fatto caso perché si vedrebbe un puntino in più del normale ma non l'ho proprio mai visto e la percentuale non so quale sia semplicemente la fortuna che hai tu persona come videogiocatore all'interno del gioco anche qua non penso sia chissà quale giocatore in termini di statistiche ma lo prendiamo pure qui per completezza niente non non compare ovviamente bisogna bisogna avere questa sfiga oh eccolo lì l'ho chiamato vieni qua eh sì ah perché dovevano pararci due volte ecco perché vi erano due screen all'interno del sito vabbè insomma piuttosto intuibile che andasse e ha tanti ppt comunque per essere a livello 20 bene dopo Seggy passiamo a un giocatore che io non ho mai amato ovvero P-Body P-Body bisognerà parare nove volte per tre zone diverse allora io ricordo comunque ve lo faccio per rivedere che la prima zona è alla torre e bisognerà salire la torre e aver la fortuna di trovarlo pure qua ci parlate ben nove volte io l'ho già fatto lo so me lo ricordo durante la trama la seconda volta bisognerà andare al centro ora non ricordo bene però quale sia il il negozio ma dovrebbe essere il Ramion Shop di Hillman sapete dove lavorava lui però non mi ricordo bene quale sia non è questo questo è Made Cafe forse nell'altra zona e anche qua pararci nove volte con P-Body qua potrebbe essere qualunque non me lo ricordo però forse questo qua il giocatore cinese sì eccolo qui che ci aspettava è importante parlare nove volte alla torre prima perché è proprio una una conseguenza prima alla torre nove volte poi qui nove volte e poi mi parla la Fox Shore vediamo sì a Fukuoka se voi veniste qua senza aver parlato prima nove volte alla torre non comparirebbe ora è scappato maledetto ovviamente perché vuole andare a farci perdere tempo ancora pure a Fukuoka quindi bisognerà andare nella zona dove prendemmo Darren la chance mai utilizzato ma dettagli e Fukuoka eccolo e direi città sì nella parte nord-est sì nord-est quindi bisognerà passare il centro e andare lì nel vicolo più alto a destra ok e basta insomma ci parliamo altre nove volte poi anche Peabody entrerà all'interno della squadra dov'è però devo vedere lo screenshot perché non vorrei ecco che comparisse quando vuole anche lui dovrebbe essere qui però non vedo bene dallo screen ma forse è questo eccolo qua altre nove volte poi vi parlo già di Shadow ve l'avrei potuto dire anche prima però Shadow prima di poterlo reclutare bisogna prendere anche Felt e Knight eh sì vi ricordate i giocatori che non potevamo prendere perché a loro volta chiedevano un requisito che ora comunque vi andrò a dire Shadow chiede non solo loro due nei primi quattro ma anche avere un oggetto un oggetto che potevo dirlo anche prima ma ora ve lo dico a voce si trova in realtà l'abbiamo visto durante il gameplay eh alla stazione tv dove abbiamo preso Cester Horse sotto i tendoni lì vicino proprio dove c'era Cester Horse si trova l'oggetto Shadow Saurus Simmery è l'unico giocatore che chiede un oggetto quindi un po' particolare però ripeto prima bisogna avere anche Felt e Knight io li avrei presi in realtà nella prossima parte ma è richiesto così quindi devo andare a vedere dove si trovano perché non me lo ricordo non me l'aspettavo di doverli fare così allora Felt dunque della Brainwashing anche lui lo possiamo prendere solo dopo aver battuto la squadra Cards The Cards che è la terza ultima del ramo superiore di Okinawa dell'Amichevoli della Mary Times ok se voi non battete quella squadra chiamata Cards che tra l'altro a sua volta ha un requisito tipo mi sembra battere la squadra senza giocatori con un tiro o una roba del genere se voi non battete quella squadra non importa il rank qua non c'è scritto basta vincerla non potrete sbloccare Felt e di conseguenza non potete sbloccare Shadow è tutta una catena questa quindi non possiamo evitarlo spero di averlo giusto ma direi di sì no non trovo alcun giocatore bene molto bene perché non lo trovi Felt can be recruited after you win the match with the card eh l'ho fatto guarda sono sicuro che l'abbia fatto quindi non ah ma forse perché non devo fare per nome giustamente questo è un errore che non ci pensavo devo soffiare il giocatore appunto alla brainwashing eh sì penso sia così non spunterebbe se non se non aveste fatto quella cosa di prima ora speriamo che spunti però ugualmente che siamo qua per lui eccolo qua vi ripeto non spunterebbe se non aveste fatto quello che vi ho appena detto ora appunto spunta e bisognerà andare sotto lampione a Hokkaido ok nulla di più semplice però io controllo per l'età di perdere tempo eh esattamente nel luogo in cui vi era Sion ricordate o Sion o Canon dipende che gioco avete quindi nel marciapiede di sinistra e pepepe Hokkaido città anche anche Malcolm Knight alla fine un difensore che se io avessi la voglia ma non ne ho allenerei pure per la mia squadra però sappiate che è come se lo avessi fatto perché lo metterò in squadra poi non verrà allenato amen ha questo requisito cioè che dovete battere la squadra card ok e poi lo trovate solamente in quel modo appunto da Hillman quindi dovete andare a parlare di nuovo con lui a me Malcolm piace forse perché è uno di quei giocatori sottovalutati un po' della trama però facendo parte anche della lore del gioco in 2m2 e anche dell'1 principalmente dell'1 in realtà secondo me è considerato un buon giocatore ecco io l'ho sempre detto non devo ingaggiare devo soffiare pure qua ovviamente parliamo della Kirkwood con la speranza che anche esso ci sia ora dovrebbe spuntare ora il mio consiglio è prendere prima felt di Malcolm non so per quale motivo mi venga a dirvi così forse anche forse Malcolm dentro di sé chiede poi sarebbe Knight appunto chiede felt non lo so oltre a chiedere l'amichevole che già vi ho detto sotto il ciliegio a Nara prima però voglio dire una cosa scusate perdono non l'ho mai visto ma io posso la prossima parte andare a soffiare e un attimo andare a soffiare Diamond Dust si ok posso bene non l'avevo ancora mai vista quindi volevo avere la certezza di poterlo fare dunque andiamo a Nara nella zona principale insomma appena usciamo in città lo vediamo in teoria subito sperando che non faccia i capricci Malcolm medesca spero l'hanno fatto casini con Ilman ecco no in realtà c'è bene perfetto molto rapido e adesso dobbiamo mettere sia felt che Knight all'interno dei primi 5 giocatori con l'oggetto già preso la shadowsaurus no vi ricordate e andare finalmente a prendere shadow insomma ha questa caratteristica ai giocatori in questione poi ovviamente riprendiamo vabbè anche se sono a livello 5 Amen non ci interessa tanto abbiamo Shown o Byron per distruggere gli avversari e bisognerà andare senza dover parlare con nessuno a regione del magazzino della torre da quello che sto leggendo sembrerebbe che non è così scontato che esca quindi anche qua bisognerà fare avanti indietro anche qua dice entra ed esci vediamo se abbiamo questa fortuna o meno non so se bisogna sfidarli addirittura secondo me no in realtà vediamo dovrebbe essere qui dentro eccolo spondendo subito non so se per fortuna o meno vieni vieni ecco dovete avere tutte queste belle cosine dunque potete avere anche shadow dunque una volta avuto shadow che comunque è un giocatore molto buono dark tornado a livello 45 insomma saperlo ecco vi consiglierei di reclutarlo molto prima di ora ma dovete prima avere quella sfida fatta ovviamente ci riprendiamo mark e ci riprendiamo il mio amato witz anche se malcolm vi dico ora giusto per stizio io lo metto dentro e toglierò toglierò scott perché tanto scott fa già parte della panchina quindi do questo segnale che malcolm io lo terrei in squadra volentieri ci sarebbe da prendere torre torre l'ho già preso ce l'ho anche banalmente in squadra quindi non serve che vi dica ulteriormente l'abbiamo preso in una delle scorse parti dovrete andare al faro ovviamente dovete fare il download così che vi dia la chiave del faro stesso che si può comprare al mercatone G alla stazione in negozio lì in alto a sinistra dove prima abbiamo preso pure gym con 10.000 punti passione mi pare o 6.000 non ricordo prendete la chiave entrate al faro e lo trovate subito lì dentro insomma vicino a tanti svegli scrigni entra anche lui senza problemi poi l'ultimo giocatore per oggi direi da reclutare è Miles l'amico di Nathan ora Miles però appunto chiede Nathan stesso quindi andiamolo a prendere lo mettiamo nei primi 4 per cui ecco anche Miles non è così scontato da prendere perché a sua volta chiede Nathan si può reclutare dopo oddio aver battuto anche la Genesis quindi Miles purtroppo ha questa caratteristica dunque durante la storia non si può si può prendere forse si ah no intendeva dire tanto ci andiamo dobbiamo andare all'Alpani Juniorai ora vi spiego non è che l'ho già preso tra l'altro no allora si può prendere o prima della Genesis prima di aver battuto la Genesis o dopo la storia perché perché in realtà non c'è più quindi in realtà se voi questo video lo state guardando che sta ancora giocando la trama potrete già avere Miles subito e non dover aspettare di reclutare Nathan alla fine ora ovviamente non compare perché sia mai non dovrebbe essere lì in alto io spero che ecco si possa prendere in questo modo ora rileggo un attimino meglio purtroppo anche lì la targhetta dell'Alpine non mi fa vedere se c'è il puntino devo fare ogni volta avanti e indietro questo significa che puoi reclutare lui prima del match da Genesis o dopo la fine della storia ah però devo videochiamare Hillman eh questo non me lo ricordavo ecco perché potevo stare qui una vita e non sarebbe uscito eh non lo sapevo quindi prima mettete Nathan nei primi 4 ok e poi videochiamate Hillman tra l'altro per una delle ultime volte lo andrò a fare perché non ne ho più voglia e ingaggio per nome perché non fa parte di nessuna squadra e si chiama spelling Miles M-I-L-E-S speriamo lo trovi ok eccolo qua Miles Ryan si troverà nel luogo dove vi ho detto sperando che non mi faccia perdere ulteriori tempo comunque questo qui sarà l'ultimo perché poi nella guida del sito esce fuori Nakata ma Nakata non è ancora al momento insomma ci sarà una parte ovviamente a lui dedicata è il mio sogno averlo non sapete quanto è che lo aspetto ma devo ancora attendere un po' non troppo ah vuole anche una sfida Miles è il primo la prima sfida che faccio in questa partita in questa parte ruba la pala agli avversari vabbè nulla di più semplice sperando che non mi dia fastidio Decker perfetto vediamo i punti di esperienza datoci 1 2 19 vabbè entri no madonna tanto nel sito un po' trolla perché dice per prendere Nakata dovete parlare con qualche persona poi in realtà leggi la guida per conoscerne di più no e c'è una pagina intera di cose da fare in primis anche requisiti da ottenere ma ne parleremo a tempo debito comunque già lo sappiamo anche cosa bisogna fare per fortuna i requisiti li ho tutti sviluppati insomma ma sì ma no tiriamo normale io non so penso che Decker non sia manco un portiere non dovrebbe avere mostri di parata poi a quel livello a priori penso che non sia così difficile trovarlo e fare i gol insomma bene oramai scrive dell'altro speriamo di no insomma non ho più tanta voglia onestamente ok onorato di entrare non puoi capire noi vieni anche te siamo a ben 90 giocatori e tra l'altro attenzione perché facciamo un attimo un calcolo di di quelli che possiamo ancora ottenere che vogliamo ottenere io penso abbiamo lo spazio ma sicuramente Gazelle Icer Droll che vorrei avere perché no anche Beluga vediamo nella prossima parte e Bellatrix e poi Nakata ok in realtà abbiamo ancora dello spazio in teoria in teoria ci sarebbero anche altri giocatori che dovremmo prendere perché tramite il blog abbiamo sbloccato dei giocatori tramite wifi tramite il download no che io non ho mai guardato ma sono qui presenti ora devo capire dove siano però ora non sono questi ehm tripegas vedete il blog comunica tutto quello che è stato fatto col download è per esempio Ramona Vriston tramite la wifi connection eh cosa facciamo li facciamo oggi quanti sono forca miseria no sono troppi pagine pagine no vabbè non li sto a fare è pazzesco no sono troppi però sono sono tanti ecco sono 3 7 11 14 no sto sbagliando porca miseria facciamo vedere che ci sia pure qua 4 8 12 16 20 24 28 30 34 38 42 44 46 e sicuramente ho sbagliato ma che cazzo vabbè saranno si ho proprio sbagliato sto facendo appena del 4 e 46 non c'è quindi saranno circa 50 e farvi capire lasciamo stare però ecco sappiate che chi prenderà il mio salvataggio sicuramente avrà anche la possibilità se interessa di avere quei giocatori che io non so se siano buoni o meno non ne ho idea non viene neanche menzionati qua nel nel sito o meglio in realtà si però non mi sembrano così fondamentali da ottenere dunque prima di lasciarvi e mentre vi saluto io mi dirigo intanto al centro perché nella prossima parte farò ancora qualche amichevole non so quante ma ne farò ancora qualcuna da forse due direi dal panzone dell'otaku e poi andrò a reclutare anche i giocatori che mi servono della diamond dust barra bellatrix però essendo che mi sono messo in testa ormai di essere così vicino a farlo di terminare le amichevoli comunico in diretta che la parte 60 non sarà l'ultima purtroppo ahimè non sarà l'ultima e probabilmente nakata non lo prenderò la parte 60 perché io voglio che l'ultima sia nakata chiaro visto che voglio prima battere tutte queste squadre qua presenti anche in alto perché sperando di riuscire a fare anche la chaos capite bene che ne abbiamo completate quasi tutte ne mancano 8 però ora voglio vedere però ancora una cosa scusate così ve lo dico anche in diretta l'allenatore dell'otaku chiede particolari requisiti speriamo di no ecco per esempio si la terza squadra qua chiederà giocatori che non conoscono tecniche di parata vabbè chi se ne frega poi un'altra chiederà una squadra che non si possono utilizzare donne amen ok molto semplice comunque dai ci vediamo alla prossima parte che comunque a questo punto non lo so potremmo anche giocarci delle amichevoli e basta la prossima parte vabbè vedo un po' come mi fa tanto salvo perché comunque abbiamo fatto un bel po' di amicizie da 80 passiamo a minimo 90 98 siamo ormai sulla soia anche di 100 amici vi ringrazio alla prossima ciao ciao